Ed ora parleremo a Ruota Libera, questo è proprio il nome del Festival Scaligero delle Abilità Integrate. Davvero una bella iniziativa per il nostro territorio dove lo sport si fa vettore di tanti bei messaggi per la società. Insomma, a quanto pare dobbiamo prepararci a dei grandi eventi, ma noi li faremo presentare direttamente da chi li sta organizzando perché ormai i preparativi sono arrivati all'ultimo minuto, quindi le locandine le abbiamo, abbiamo tutto ciò che c'è da raccontare. Benvenuti ad Alessio, Giorgia e Federica, che insomma ci racconteranno questo dietro le quinte di un festival che vedrà protagonisti dei ragazzi speciali. Alessio, inizio da te, raccontaci un po'. Beh, a Ruota Libera l'abbiamo chiamato così perché appunto ci piaceva dare un messaggio di movimento, di speranza, di un qualcosa che comunque va avanti indipendentemente da tutto. Ovviamente abbiamo dovuto spiegarlo con questo sottotitolo che è Festival Scaligero delle Abilità Integrate. perché? Perché è un mega contenitore di diversi tipi di attività, si parla di musica, di poesia, di seminari, di laboratori, di una passeggiata su ruote in cui abbiamo cercato di ribaltare il concetto di passeggiata e ribaltare il concetto di normalità che chiuderà il festival domenica mattina. Come vedete è appunto un appuntamento che raccoglie tante esperienze e che vorremmo che fosse un messaggio di natura più che sportivo, che fosse un messaggio di natura culturale, che portasse tutti i cittadini veronesi interessati al tema ma anche quelli che insomma sono un po' curiosi su questo tipo di attività, di incontrarci e appunto provare a sperimentare le diverse cose. Poi tutto il programma è sul nostro sito che è pubblico. Comunque si spazia dalla poesia, danza, spettacolo, musica, insomma ci sono tutti gli ingredienti per far felici tutti i cittadini. Assolutamente sì, è per quello che è un festival. Non abbiamo voluto, nonostante l'organizzatore principale sia l'Unione Sportiva delle Acli, ridurre la cosa soltanto al tema sport. Lo sport è una scusa per aggregare, è una scusa per promuovere, è una scusa per provare a fare delle cose tutti assieme. Azzeriamo le regole che tutti noi abitualmente siamo stati abituati a conoscere per dire che tu sia una persona normodotata o che sia una persona disabile. Troviamo un modo per lavorare, per giocare, per divertirci insieme, per interagire comunque in modo costruttivo e continuativo. E la danza invece è la passione 365 giorni l'anno per Giorgia, che lei è la referente d'Usacli per l'area disabilità, è danzaterapeuta e presidente dell'associazione Diversamente in Danza. Quindi Giorgia tu sicuramente sei la persona giusta che ci può raccontare come si svolge questa danzaterapia in particolare, quali sono gli effetti positivi che dà? Ma allora, nel caso in particolare dell'associazione Diversamente in Danza, quello che facciamo noi è promuovere una danza che sia integrata. Per cui nei nostri laboratori, come potrete vedere per chi parteciperà sabato 5 e nei nostri spettacoli, se qualcuno verrà a vederci poi la sera, quello che si vede sono in scena abilità differenti. Ci sono danzatrici e danzatori abili, diversamente abili, con diverse esperienze di vita, ci sono mamme che vengono a danzare con i loro figli, ci sono ragazze abili che vengono a danzare magari con le sorelle disabili. L'effetto positivo che io vedo in questo caso è il fatto che noi creiamo un piccolo spaccato di società, perché la società è veramente così, troviamo persone diverse tutti i giorni con cui ci dobbiamo relazionare, ma purtroppo non sempre abbiamo gli strumenti giusti per farlo. Spesso, anche nel contesto scolastico, magari c'è l'integrazione, ma si fa un po' fatica a vivere il contatto con il compagno diversamente abile. Nel caso di Diversamente in Danza, la danza diventa la scusa per imparare a relazionarsi con corpi, menti, pensieri e modi di fare diversi. Insomma, davvero una bella iniziativa, ricordiamo che sono tutti ad ingresso libero, con un'offerta, insomma, se si sente di poterla fare, di sicuro è ben accetta, perché sono tanti progetti, Alessio, da portare a casa ancora. Sì, l'idea ovviamente è che questo tipo di iniziativa che stiamo un po' sperimentando e costruendo da alcuni anni, perché alcuni anni abbiamo fatto in un modo, in altri, in altri, quest'anno siamo arrivati a questa formula di micro-momenti o micro-laboratori sparsi nell'arco di tre o quattro giornate. L'idea è quella che diventi un'iniziativa che poi si spalmi su tutto l'anno, con appuntamenti periodici e con appuntamenti stabili, in modo tale che non sia un grande fuoco d'artificio, ma che sia il semino che cresce e che ci abitua che il mondo è fatto di questa cosa qui, che è fatto di interazione, che è fatto di costruzione, che è fatto di condivisione anche tra mondi diversi, tra virgolette. Mondi diversi li vediamo che possono in qualche modo darsi mano, come in questo simpatico filmato, dove dei campioni dello sport si rendono disponibili per azioni quotidiane. Questo è il messaggio che si vuole lanciare. Assolutamente sì. Questo è un piccolo spot che l'Unione Sportiva ha realizzato per una campagna, che uno sportivo si mette in gioco sempre. È una campagna che ha caratterizzato questi quattro anni di lavoro e quattro anni di attività, proprio perché l'Unione Sportiva delle Acli lavora su questo tema costantemente. Cioè lo sport va bene, è uno strumento che serve per aggregare, è uno strumento che serve per mantenersi in forma, è uno strumento che ci permette anche di costruire interazioni positive. È uno strumento che può essere messo al servizio anche di altre cose per la costruzione della nostra società. So che avete tante mascotte nel vostro gruppo, ma l'abbiamo anche oggi in studio, ed è Federica in rappresentanza di tutti i volontari che si stanno impegnando fortemente nella preparazione di tutti questi appuntamenti. Federica, raccontaci un po' come stanno andando le cose, questa esperienza con Acli. Allora, è un'esperienza particolare perché essendo in servizio civile mi trovo a fare diverse cose. Mi trovo a fare anche da tramite tra Giorgia e Alessio, che Giorgia, essendo oltre la mia insegnante di danza, è anche mia zia. Ah, l'abbiamo svelato o retroscena? Piccolo segretuccio. Diciamo che ci ha aiutato a organizzare tutto l'evento sfornando idee interessanti e anche fornendo contatti particolari. L'esperienza di servizio civile è in realtà particolare, non saprei come definirla. La consiglieresti? Assolutamente sì, perché soprattutto se non si hanno idee per il proprio futuro è un'esperienza formativa che può aiutarti a decidere cosa fare nella tua vita. Cosa ti lasciano i ragazzi diversamente abili, li vogliamo chiamare così? Che cos'è che insegnano ai ragazzi normodotati? Io non li vedo diversamente abili, sono persone come tutti quanti, quindi è un'esperienza di vita pure quella. Non si può considerare una persona diversa perché siamo tutti diversi, quindi diversamente abile è uno come noi. Ci si diverte un sacco tra le altre, so. Assolutamente sì. Tante risate, insomma, questo è sicuramente il messaggio con il sorriso di volerlo portare in tutte le case dei veronesi. Adesso io leggo tra le altre, inviterai tutti ad esserci anche domenica, 6 marzo? Sì, domenica 6 marzo. 6 marzo, ore 10 della mattina, passeggiata su ruote. Raccontaci un po' che cosa ti ha pensato. In realtà abbiamo, come dicevo prima, cercato di ribaltare la realtà. Questa è un'idea, diciamo, più di Giorgia e Federica. Quando è nata, è nata un po' così, era una roba un po' strana, che mi hanno detto, ma proviamo a farlo. Tutti siamo abituati alla manifestazione podistica e alla passeggiata. E tutti siamo abituati alla passeggiata, immaginando come delle persone che camminano lungo un percorso. Nel caso del disabile, questa cosa non è possibile, perché molto spesso è accompagnato da carrozzina, piuttosto che da altri strumenti che gli permettono di muoversi. Bene, noi portiamo la normalità a quel tipo di difficoltà lì, tra virgolette difficoltà. E quindi ribaltando la realtà, la normalità diventa avere le ruote. Quindi mamme con i passeggini, monopattini, biciclette, pattini. Qualsiasi cosa vi possa venire in mente, bambini nel carrello della spesa, vanno bene anche quelli. Sì, anzi, più ci sarà creatività e più diventa divertente. Più diventa divertente anche questi tre chilometri che faremo tutti assieme. e ci vediamo domenica mattina, mi raccomando, tutti con le nostre ruote. Ripeto, si parte da Piazza Bra e si torna in Piazza Bra. Si parte da Piazza Bra e si torna in Piazza Bra. È un anello di tre chilometri all'interno della ZTL, quindi è veramente una cosa che può fare chiunque per i bambini. Non ci sono assolutamente possibilità di pericolo, perché è una zona ipertutelata. Anzi, ringraziamo il Comune che ci ha dato una mano anche per costruire questo tipo di percorso all'interno della nostra città, ovviamente insieme agli altri patrocinieri.